e beh a tutti ragazzi questo nuovo video siamo tornati qui su fortnite sono con brian saluta ciao oggi cercheremo di fare vetro reale in duo mi raccomando lasciate like iscrivetevi e commentate speriamo che facciamo il terreno reale allora raga lo ridico come lo scorso video chi vuole fare il provino lo scrive nei commenti va bene io le rispondo subito attendo mario quanto ci sta ecco andiamo andiamo assieme bebi andiamo assieme andiamo assieme bebi 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 and bebi bebi vorrezco Se sono basso, vado in quella casa. Se ero basso. Guarda quanto è basso questo. No, vado là. Vado là io. Mi raccomando, ho fatto i materiali. Dopo quando vieni da me, ho un po' in più, se vuoi. Un po' in più. Un po' in più. C'è gente da te. Ammattato. Bravo. Io salto blu, mitraietta blu, padello verde e la fiocino. Io ho un po' un po' tipo blu, poi un po' fucile verde e mille di acqua verde. I materiali come sei tu? Duecento legno, cento nove mattoni e quarenta sette. Buono, va. Allora, aspetta. Io 250 di materiali, di legno e 138 di ferro. Ce l'hai? No, sì, sì. Buono. 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 c'è la missione qua di studiare gli assacchiotti allora scendini bryan tieni cosa sì certo io ho tre medikit io ho uno ah ne ho uno allora diamo lì ce l'hai colpi gli materiali sono messo buono per ora ok te li do 45 tu qua c'è una fiocita da me buono l'assalto blu c'è gente vieni quello è l'ultimo qua si è ucciso ucciso tieni eh due cildini dammi dammi ci tengo io ti sembra qualcosa no ok eh non posso tenere la fiocino ho tre medikit e due ok ok madonna no questo qua mi diventa non capisci questo è chi eh è natale ci sono presi il bar non ci sono presi ancora neanche il bar vieni 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 ma perché ci sono anche a me mi sta invitando ora mi spammo come l'era ci siamo in su però sto cambiando un ultimo giorno fra ok fra i medikit ci sono tre medikit a terra ho sbagliato no ma io ho una no ok dammi non lo finire se lo ammazzi se lo ammazzi non lo finire così ci apriamo la cassa ho sbagliato fermo non lo ammazzare quello io che ho addosso no no farà bene se vuoi e buttati o se ci diri ti servono colpi qualcosa no colpi assalto un pochino quanti ne hai assalto tu 249 266 quanto 166 g 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 h g g Ti do col più minigun Che tu hai la minigun Ti ne do un altro baguco Potremmo andare a foresta però vabbè Se stiamo a bondo safe è meglio Occhio da dietro va bene Sì Oh no Vediamo se qua c'è gente Ah che c'è Come ha fatto Karol A che? A fare che? Ad arrivare a 100 iscritti A che c'è uno scudone? Fatelo tu Ma per decine devi venire? Tanto l'ho trovato Fatti lo scudone L'ho trovato in due io Mi senti? Sì certo Sì però ho un po' di meno Ah ma la bovina si va Segno sotto Sei sotto Ho un po' di meno blu Ok Ma dove l'hai fatta la miscina con la la? Quale? No Beh ormai sono a livello 100 perciò Zitta 800 di leno Non c'è gente Quante che hai laido? Io una Io pure Io da lontano Provo a vedere col cecchino Ma niente Non c'è gente Bene qua Forse devi fare E di nuovo Mi invito Eh pure a me No io Fatelo tu Fatelo Oh c'è gente Vieni Mi sto spammando di invidi Però vabbè Ma guarda la batteria C'è la tua cucina un'era Hanno già imparato fra Però c'è gente Ma è sopra Sì sì No Non è sopra fra Bravo Ah Vuoi colpi No no Non c'è No no Manteno di legno Ok mi sta spammando Che deve fare? No Non capisci L'avevo salato Quello che hai ucciso Qualcosa Fra dietro dietro c'è gente Dietro Siamo attenti Dobbiamo usare la giampa Stanno prendendo la Il bloc Ok Mi Siamo attenti un po' ma non so bene ma è che c'è spazio non c'è spazio Fra, dietro, dietro, dietro Vieni qua da me Vai Fra, occhio Vabbè Non usare la minican Perché la minican ci sta a stare a sparare Vabbè Per poco, siamo dietro i quarti Ragazzi, per oggi è tutto Spero che vi sia piaciuto Lasciate like, iscrivetevi Condividete E commentate Ciao ciao